No, non è passateci le persone, bravo! Allora, il nostro fastidista vi trutturà la... Non è un po' di clovero, chissiamo, guardiamo, cosa facciamo, tutto quanto. Non ci piace fare. Esatto. Va bene, avete appena ascoltato Dave, cioè Davide, il cantante. Questa sera... No, sì, siamo in clover e questa sera suoniamo gli stessi metri che avevano suonato la settimana scorsa perché ci sembra che ci rappresenti un musica migliore. E facciamo, diciamo, di fare progressi con quello che siete buoni, facciamo progressi con me, no? Noi intanto suoniamo per voi e speriamo che vi piaccia. Come al solito, cioè con il prima volta, si comincia con un'introduzione strumentale e poi si va bene. Grazie. 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 Grazie.